Il circo acquatico a Roma, appuntamento nella capitale con Magnifico Aquatico, il più innovativo show di questi ultimi anni ambientato nel mondo marino, che si basa sulla bravura atletica degli artisti e non usa animali dal vivo. E' la risposta europea al Cirque du Soleil, uno spettacolo per tutta la famiglia che in due anni ha totalizzato più di 1.300.000 spettatori in Spagna. Ambientato in un Magnifico Aquario, circolare con oltre 50.000 litri di acqua, lo show racconta la storia di un clown che cade accidentalmente in acqua e non sapendo nuotare raggiunge la profondità del mare. Qui gli capitano una serie di avventure, difficili, alcune divertenti. Nel fondo del mare vive una serie di avventure piene di acrobazie. Forza e destrezza incontrano delle magiche creature che girano nel mondo sottomarino. Da ognuno di questi abitanti del mare impara qualcosa di nuovo ed interessante e con questa nuova conoscenza decide di tornare in superficie. E' una storia in cui la semplicità dei personaggi consente a due mondi di incontrarsi di vivere e respirare insieme. Tra loro esiste una sola lingua, il valore dell'amicizia. Non c'è solo l'acqua. Questa grande avventura sarà vissuta anche fuori, con tutti i personaggi di un lupico acquatico. Gli artisti, con la loro bravura e il loro ipnotismo ed audacia, avranno il compito di guidare ed affascinare gli spettatori durante le due ore dello spettacolo. Luci, suono, musica, messe in scena, scenografia, trucco e costumi si fondono per ottenere una estetica attuale, moderna ed attraente. Il programma include anche 10 attrezioni di alto livello tecnico. 30 artisti, con un denominatore comune, con un grande impegno per tutti, quello di portare originalità alle loro prestazioni. E così, ecco che sotto il tendone di libido acquatico, tra giochi d'acqua e effetti speciali, si potranno ammirare delle piramidi umane formate da saltatori e ancora i giocoglieri, delle fantastiche sirene contorsioniste che formeranno una piramide di modatezza armonica. Piegheranno i loro corpi come fossero delle molle e ancora virtuose danzatrici al trapezio, rombando in modo d'acqua che, mediante un pubblicato attrezzo, farà volare a grande velocità sotto l'acqua delle spericolate attrete al trapezio. Senza dimenticare i protagonisti del fondo marino, in primis la tartaruga, la stella marina, lo squallo, il granchio, le meduse, i simpatici polipi, i pesci come il cavalluccio marino che accresceranno la spettacolarità di questo show.